L'8228, altra collezione di Vaticano che arriva fino al 2012 in questi due grandi classificatori. Collezione generalmente di francobolli nuovi, occasionalmente vi è qualche usato. Per esempio qua c'è il Papa Oro, c'è il concilio di Trento, Calcedonia, Pier Lombardo. Io qui vado avanti perché tanto anche così si vedono. Appare completa senza particolari mancanze, almeno così ad occhio. E l'insieme è ben conservato. Qua c'è un po' di posta aerea, compresa l'UPU. Qua già siamo con le emissioni in Euro. Ci sono pure alcune emissioni congiunte. Qua già siamo con il Benedetto XVI. Qua sono tutti i minifogli, come potete vedere. ci sono anche blocchi, ripetizioni. Ci sono anche blocchi, ripetizioni. Queste sono le emissioni congiunte con la Vaticano con Gibilterra, con varie ripetizioni. Come valore facciale è decisamente alto. Soprattutto questi in Euro. Ci sono i libretti. Se volete altri video o informazioni, scrivete a filateli a chiocciola 4baiocchi.com. Questo deve essere il foglietto, quello esatto, quello che si poteva personalizzare. Ce ne sono uno, due, tre, quattro, ce ne sono ben cinque, di cui uno generico. e uno, due, tre, quattro, intestati al collezionista e ai suoi familiari.